Siete ancora troppo pochi eh? Adesso io vi sfido, ok? Questa l'avete mai vista fare? Si chiama GoPro, è una telecamera che vi riprende, vi ascolta, io adesso vi lancio una sfida Su questo schermo appariranno delle parole di una delle più belle canzoni della storia della musica italiana scritta da Tiziano Ferro Io vi registrerò e vi paragonerò a quelli di ieri sera, a quelli dell'altro ieri sera, a quelli delle serate precedenti Vediamo Tribano dove arriva con la voce Sere, nere Mi penserai agli angeli Al caffè caldo svegliandoti Mentre passa distratta la notizia di noi due Di quello che mi serviva Se non ci viene fortifica Mentre passa distratta la tua voce e la tv La radio, il telefono, risuonerà il tuo addio Di sere Mentre non c'è tempo, non c'è spazio Che mai nessuno capirà Puoi rimanere Che mai nessuno capirà Ma è da morire senza te Che mai nessuno capirà Che mai nessuno capirà Che mai nessuno capirà Tu ci sei Tu ci sei Che mai nessuno capirà 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.